buongiorno buongiorno ragazzi direi che è veramente un grande buongiorno per lo sport in particolar modo il nuoto italiano perché la giornata di ieri è stata per certi versi folle per certi versi incredibile romantica bellissima quasi surreale alla duna arena di budapest veramente si è concretizzato un sogno un sogno straordinario perché domenica questo sogno l'aveva fatto cominciare nicola martinenghi con un oro bellissimo nei cento rana è vero l'assenza di piti è vero che partiva dal favorito ma proprio per questo quando uno parte per favorito è assolutamente difficile confermare le aspettative di tutti è assolutamente difficile fare una prestazione in linea con quelle che sono le aspettative del mainstream le aspettative del di tutti di tutto il pubblico diciamo di tutti gli addetti ai lavori e nicolò martinenghi è stato bravissimo e anche umilissimo perché ieri lo ha ribadito anche ai microfoni di elisabetta caporale ha detto quando si è qualificata per la finale dei 50 anche con il miglior tempo e assolutamente con un tempo tutt'altro che lontano dal record italiano anisabetta caporale ha detto ad ampiti mi ha detto di godertela perché insomma e io ho detto sì me la godo e perché ho preso questo treno che potrebbe non più passare però adesso veramente per quello che sta facendo nicolò martinenghi non teme neanche più ad ampiti non teme neanche più il fenomeno britannico perché veramente adesso nella rana sta diventando uno dei grandissimi protagonisti uno dei signori e questa sera ci potrebbe regalare ci potrebbe veramente regalare un un grandissimo sogno nei 50 nei 50 rana dove veramente avremo anche due due atleti in finale perché insomma veramente le batterie hanno corso bene i nostri azzurri quindi insomma veramente attendiamo attendiamo questa sera nicolò martinenghi e simone cerasuolo simone cerasuolo che è arrivato proprio in extremis anche mondiali per il covid quindi insomma veramente sarebbe già un sogno per lui la finale qualificata anche con il quinto tempo mancherà anche il favorito del brasiliano junior da silva quindi insomma assolutamente aperta questa gara per un bis d'oro di nicolò martinenghi questa sera seguiremo anche gli 800 stili libero uomini con gabriele dette gregorio paltrinieri ci sarà anche la finale di 200 farfalla con alberto razzetti all'opera quindi insomma tanti tanti azzurri che stasera proveranno a regalarci delle soddisfazioni oltre che la finale della 4 per cento misti mista quindi sarebbe interessante vedere anche quella finale questa sera comunque stamattina ci sono anche le batterie ci sono i 100 stili libero uomini c'è miressi c'è zazzeri zazzeri in grandissimo spolvero nella staffetta già ci ha regalato grazie alla sua grandissima frazione la prima medaglia di questi mondiali il bronzo di sabato quindi insomma veramente è cominciato benissimo anche il mondiale del fiorentino stasera ci sono anche le semifinali dei 100 stili libero uomini dove assolutamente appunto l'italia può covare dei sogni e di gloria dei sogni e di gloria che si sono già concretizzati ieri pomeriggio perché veniamo a ieri pomeriggio dove veramente è stato il pomeriggio dell'apoteosi più totale prima con thomas cecon record del mondo record del mondo per thomas cecon che ha fatto un qualcosa di surreale un qualcosa di quasi ma neanche sperata perché lui ci sperava sicuramente lui è consapevole di quelle che sono le sue qualità ma sicuramente di pazzesco perché veramente fare oro mondiale record del mondo e mondiali nei cento d'orso è insomma è qualcosa veramente di di eccezionale perché veramente mancava il record del mondo per il nuoto maschile da giorgio lamberti agli europei di bon dell'89 quindi era praticamente 33 anni che non arrivava un record mondiale per il nuoto maschile il nuoto femminile abbiamo fatto recentemente con benedetta pilato a proposito ma è stata una progressione incredibile veramente da parte di di thomas cecon che ha veramente polverizzato il record perché il precedente primato mondiale era 51 85 di murphy che ieri ci ha provato aveva provato a scappare thomas cecon è rimasto con lui e poi ha scatenato veramente le marce altissime nella seconda parte di gara e lì non ce n'è stata più per nessuno non c'è stato più appello non c'è stato più non c'è stato più gara ha scatenato veramente il turbo nel finale ed è stato veramente incredibile nel nel ritorno dai 50 metri nella seconda nella seconda vasca 26 46 che è un tempo surreale nella seconda vasca veramente incredibile quello che ha fatto thomas cecon che ha portato l'italia sul tetto del mondo nei cento d'orso in una specialità in cui ci mancava ancora il titolo mondiale ci mancava il titolo mondiale anche nei cento rana che ci ha pensato ci ha pensato benedetta pilato dopo che l'anno scorso c'erano state già i primi sussurri avevano già cominciato a rumoreggiare gli addetti ai lavori dopo le olimpiadi perché c'erano state le prime difficoltà ma ragazzi è un atleta che si è rappresentata ai mondiali di tre anni fa con una medaglia d'argento aveva vinto gli europei con il record del mondo arriva a questi mondiali e si inventa un numero incredibile in finale con una rimonta degna proprio di quella che fece federica pellegrini alla duna arena di budapest perché veramente federica ve lo ricorderete nei 200 metri che cosa riuscì a fare nel 2017 bene nel 2000 o nel 2015 era pellegrini forse nel 2017 comunque si è inventata un numero incredibile benedetta pilato e il parallelismo con federica pellegrini è tutt'altro che peregrino perché come precocità come forza mentale come determinazione come si è imposta al nuoto mondiale come ha alzato la voce sin da subito ricorda come lo fece federica pellegrini ai suoi tempi e ricorda la sua imposizione così rapida quindi veramente è stato è stato un assolo straordinario da parte di benedetta pilato che ha fatto una seconda vasca pazzesca non era neanche fra le prime tre nella vasca d'andata nella seconda è veramente si è veramente scatenata ed è arrivata a fare un numero clamoroso anche lei con un tempo anche bellissimo e poi l'esplosione con le lacrime a suggellare quella che è stata veramente un non dico un miracolo ma sicuramente era una medaglia sicuramente non così preventivabile ecco infatti ha dichiarato pilato che era già contenta per come era andata la batteria quindi la semifinale poi di essersi qualificata alla finale arrivare addirittura a prendersi l'oro insomma è stato è stato qualcosa di incredibile ed è la consacrazione definitiva per questo atleta che già ce l'aveva fatto vedere il suo potenziale ma adesso veramente è arrivata a metterlo a sistema nel giorno magico per il nuoto italiano il 20 giugno 2022 ed è diventata peraltro la campionessa italiana nel nuoto più giovane di sempre andando anche a battere il primato di novella carligaris nel settembre del 73 a belgrado negli 800 stile libero lei che aveva il primato di donna più precoce a salire sul gradino più alto del podio mondiale adesso c'è riuscita anche benedetta pilato veramente con qualcosa di pazzesco buona giornata poi è stata bellissima perché ieri abbiamo rivisto finalmente anche la grande scherma italiana che ha veramente raso al suolo la Francia perché Favaretto, Enrico e Volpi si sono laureate campionesse europee hanno veramente maltrattato le francesi in finale 45-25 chissà che non possa essere anche un nuovo inizio per la scherma italiana dopo degli olimpiadi ben al di sotto delle aspettative anche a sorpresa perché poi gli atleti in italia per la scherma non sono mai mancati i risultati sono sempre arrivati in coppa del mondo sono sempre arrivati ai mondiali, agli europei, le dimostrazioni erano sempre arrivate erano, tanti italiani anche erano assolutamente nelle prime posizioni del ranking arrivi alle olimpiadi e ti giochi tutto comunque in pochissimo tutto cambia e chissà che davvero comunque non possa essere questo risultato una base solida per costruire un futuro glorioso per una delle discipline più ormai rappresentative e vincenti che il nostro paese può avere fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate su queste meravigliose imprese italiane la Gazzetta ha messo il bel trafiletto in cima perché chiaramente è più importante Lukaku e l'Inter metterlo in prima pagina è più importante mettere il mercato dell'Inter ma che sarà mai un record del mondo di Sheikon che sarà mai una che vince il campionato del mondo a 17 anni che sarà mai in confronto al calcio mercato ma che sarà mai Berrettini che vince il Quinso oppure Martinelli che vince la rana in confronto al calcio mercato e al Lukaku e al Milan e a De Keteler arrivederci e grazie fatemi sapere nei commenti ragazzi arrivederci ragazzi e ci vediamo al prossimo video